Finalmente per agosto, eh sì, finalmente, tutto l'anno è già stretta, quindi finalmente è arrivato. Sì, oggi cosa si fa? Sono volata alle quattro e mezza, compagno. Sì, stamattina? Sì, stamattina, spesso che c'è il sole, perché prendo un po' di pizzeretta. Sì, qualche messaggio è sicuro, una volta. Ci siamo, è per agosto la...